Ciao a tutti, oggi prepareremo il couscous con tonno, peperoni e zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono couscous, acqua, zucchine tagliate a cubetti, peperoni rosso tagliato a cubetti, olio, tonno, mais, basilico e pomodori secchi. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa iniziamo a mescolare il couscous con l'olio. Adesso andiamo a mettere all'interno del boccale l'olio, i peperoni, le zucchine. Chiudiamo con il coperchio in misurino e facciamo cuocere per 13 minuti 100 gradi, antioreario, velocità 1. Le verdure sono cotte, trasferiamole in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale andiamo a mettere l'acqua e azioniamo il bimbi per 5 minuti, 90 gradi, velocità 1. Nel frattempo nella ciotola con le verdure andiamo a mettere il mais, i pomodori secchi, il tonno, il sale e il pepe ed amalgamiamo delicatamente. A questo punto aggiungiamo il couscous e il sale. Mescoliamo delicatamente con la spatola e azioniamo il bimbi per 5 minuti, antiorario, velocità soft, senza temperatura. A questo punto andiamo a versare il couscous nella ciotola con le verdure. Mescoliamo delicatamente Lasciamolo riposare una decina di minuti prima di servire. Couscous con tonno, peperoni e zucchine. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!